c'era una volta un attore girovago di nome tanocchio una volta lasciata la mamma da sola al paese natio era partito per guadagnarsi da vivere quando ricevette una lettera la madre si era ammalata tanocchio spinto dall'amore filiale decise di far subito ritorno a casa era ormai il tramonto quando giunse in prossimità di un pendio dove c'era una locanda se si valica di notte questa montagna si rischia di incontrare il grande serpente vi consiglierei di non farlo gli disse la padrona cercando di trattenerlo ma tanocchio era un vero esempio di pietà filiale e pur di arrivare dalla madre anche solo un istante prima non le diede ascolto e proseguì su per la montagna fino al valico lassù trovò un piccolo santuario e si fermò a riposare fu allora che giunse un robusto vecchio dai capelli bianchi chi sei gli domandò sono tanocchio gli rispose il giovane il vecchio sentì male e capì tanuchi o si dice che i tanuchi siano bravissimi a trasformarsi prova a farlo davanti a me certo i tanuchi hanno questa fama ma se proprio vuoi sapere la verità anch'io non sono un essere umano ma un grosso serpente gli spiego poi tanocchio era terrorizzato tuttavia per assecondarlo si infilò una parrucca da donna che aveva con sé gli mostrò quello che era capace di fare il grande serpente fu molto soddisfatto sei più bravo di quanto credessi poi forse perché ora non aveva più sospetti cominciò a chiacchierare del più e del meno infine gli chiese che cos'è che detesti di più le monete d'oro rispose tanocchio e voi invece che cos'è che non sopportate detesto la nicotina del tabacco e il succo dei cacchi acerbi se il mio corpo ne viene a contatto non riesco più a muovermi come se fossi paralizzato mi raccomando però non dirlo agli esseri umani hai capito per nessun motivo ti risparmio la vita perché sei un tanuchi ma non farne parole a nessuno adesso è ora che vada e scomparve tanocchio tranquillizzato con passo spedito scese per il versante della montagna quando arrivò a valle era ormai giorno incontrò due anziani boscaioli raccontò ciò che era accaduto la notte prima e spiegò loro come tenere lontano il grande serpente i vecchi boscaioli gli furono molto grati chiesero agli abitanti del paese di raccogliere tabacco e cacchi acerbi e iniziarono la caccia al serpente quando questi lo venne a sapere capì di essere stato tradito dal finto tanuchi ormai non poteva più restare su quella montagna e dovette scappare su un'altra poco lontana deciso però a vendicarsi a tutti i costi del tanuchi cercò la casa di tanocchio infine la trovò ma la porta era chiusa e non riuscì a entrare girò tutto intorno per vedere da dove si poteva intrufolare e alla fine scoprì il comignolo sul tetto e si infilò dentro eccoti la vendetta che meriti gli urlò e gli versò addosso una montagna di monete d'oro